Eccolo il documento dell'Istituto Superiore di Sanità che chiarisce la cosiddetta regola dei 21 giorni introdotta dal Ministero della Salute con una circolare lo scorso 12 ottobre secondo la quale dopo 21 giorni ancora positivi ma in assenza di sintomi da almeno 7 si può tornare in società, come ci aveva confermato la dottoressa Elena De Santis dirigente del Dipartimento di Igiene e Prevenzione di Arezzo. Allora dalla positività si esce o perché si negativizza, quindi quando si fa un tampone ed è negativo ovviamente in assenza di sintomi da almeno 3 giorni, oppure anche se il tampone dovesse rimanere positivo a lungo e questo avviene in molte persone, dopo 21 giorni dall'inizio della sintomatologia si può interrompere il periodo di isolamento considerando che trascorso questo periodo la persona non sia più contagiosa ovviamente i sintomi devono essere terminati da almeno una settimana. Richiamando questa circolare l'Istituto Superiore di Sanità chiarisce che un soggetto che abbia queste prerogative va considerato guarito. È proprio questo il termine che gli operatori ASL devono però inserire nel fascicolo del paziente altrimenti quest'ultimo non può uscire. È qui che a volte la macchina si inceppa come ci raccontano le cronache di questi giorni anche in Toscana. Serve qualcuno che certifichi lo stato di guarito e se non lo si trova si resta prigionieri in casa.